Certamente la violenza deve essere sempre condannata con fermezza, ma non possiamo non ascoltare il grido di dolore che proviene da tutti coloro che sono stati costretti ad abbassare le saracinesche per le conseguenze della pandemia. E' il momento dunque di pensare ad una calendarizzazione per la ripartenza dell'economia del nostro Paese e prevedere delle riaperture organizzate e chiare che possano dare finalmente respiro ai ristoratori, alle pizzerie, ai bar, ai ristoranti, alle scuole, ai cinema, ai teatri, alle palestre, a tutto ciò che rappresenta il motore dell'economia della nostra Italia. Sicurezza e salute non più con cerchi antitetici all'economia, ma lavorare affinché in sicurezza si possa ripartire per rilanciare l'economia del nostro Paese.